Amici di GoTV, bentornati. Nel nostro club il più esclusivo d'Italia, ovvero Fashion Music Club Television, anche in questa puntata un sacco di servizi, Roberto Milani è pronto a salire sulla nostra macchina sponsorizzata per girare l'Italia e non solo, per portarci nei locali più interessanti e a scoprire quali sono le serate e anche le location più belle d'Italia e internazionali. Oggi poi vi anticipo che c'è anche una puntata del TG con me, quindi ci vedremo tra poco, oltre a sentire la mia voce, con Loira Linda. Io sono Pagani, voi mettetevi comodi perché c'è un'altra puntata di Fashion Music Club Television. Fashion Music Club Television, sponsor by Rigatoni Formentera. Yes, your everyday superhero. Quick Landing, Eddie Cars, Torino. Ottava puntata di Fashion Music Club Television. La macchina è pronta, l'hanno già accesa. Si sta scaldando perché noi andiamo a Bologna e andiamo al New Lounge. Oggi con il primo servizio di Fashion Music Club Television siamo in una delle più grandi città d'Italia, ovvero la Dotta Bologna e più precisamente al New Lounge Bar. Il New Lounge è un cocktail bar con una grande ispirazione alla cultura tiki esotica proveniente dalla polinese Fiji ed Hawaii. Sono aperti dal 2001 e vantano importanti premi, come ad esempio il Best Tiki Bar in the World, che ha portato New Lounge ad essere una grande realtà non soltanto in Italia, ma anche a livello internazionale. Oggi a parlarci proprio dell'esperienza New Lounge è con noi uno dei suoi fondatori, Maurizio Gerosa. Ciao, sono Maurizio Gerosa, uno dei titolari di New Lounge Bar e del gruppo che rappresenta un po' New Lounge Bar. Insieme, naturalmente, Daniele Dallapola, quindi i soci fondatori, Davide Cavallari ed Elena Esposito. Vi parlo intanto di quello che è il primo nato, il primo nato che è stato New Lounge. Abbiamo provato a fare questa prima esperienza nel mondo della miscelazione, un tiki bar ed è ancora oggi una delle realtà più importanti del mondo. Abbiamo un riff che fa così e questo riff vuol dire che il mio saluto è il J J J. Nonostante non siamo più dei ragazzini, perché di anni ne sono passati 20, appunto abbiamo compiuto 20 anni col primo locale, quindi con il capo stipite di questo gruppo, New Lounge, un sogno nel cassetto ce l'abbiamo ancora. Qual è? Siamo gli unici, l'unico gruppo in Italia che ha la disponibilità di una galleria che dà direttamente sulla piazza principale della piazza del Duomo, tra virgolette. Stiamo sviluppando un progetto che porti la galleria ad essere il protagonista, quello che vorrà essere il contenitore, sarà la galleria. I locali daranno un servizio alla galleria. Nel gruppo New Lounge ci sono anche altri locali. Come ad esempio Foodies. Foodies è prima di tutto un Bloody Mary Bar. Pensate che è il primo in Italia e l'unico luogo al mondo in cui è possibile gustare ben 10 diverse versioni del famoso cocktail. La proposta per quanto riguarda la città di Bologna è quindi veramente molto ricca, con New Lounge Bar, ristorante Buca San Petronio, Foodies Bar e Nubu American Bar. A questo punto ne approfitto per salutare voi e gli amici di Fashion Music Club Television. Vi aspetto naturalmente, io sono come vi dicevo Maurizio Gerosa, venitemi a trovare. Siamo aperti con il ristorante, pranzo e cena, con tutti i locali per l'aperitivo fino a tarda serata. Chiedete pure di me, vi offrirò da bere a nome anche degli amici di Fashion Music TV. Grazie. Ciao, sei su Fashion Music Club Television. E come tutti i programmi che si rispettano, anche noi abbiamo il nostro TG. Quindi diamo la linea al TG Club. Buonasera a tutti, buon mercoledì. Ben tornati ad una nuova edizione del Fashion Music Club TG con Pagani e Loi Ralinga. E anche questa sera vi porteremo nei migliori club italiani ed internazionali. Partiamo dall'Italia. Oggi vi porto in Toscana e più precisamente a Firenze. Iniziamo con l'hotel e approfitto per salutare il new advisor Alessandro Palma. L'hotel vi propone le serate di giovedì, venerdì, sabato e domenica. Il giovedì con un format di casa, tutto incentrato sulla musica reggaeton. Il venerdì, Memories, una serata house commerciale e in privé la musica tecno. Il sabato sera è una serata 3,60, quindi musica house commerciale hip hop e reggaeton. E la domenica, Aperi Chic, è una pericena con musica live, spesso sfilate di moda, fashion e DJ set. Continuiamo con lo Yab, club storico di Firenze, si trova proprio nel cuore del centro della città. Il club, tutto completamente rinnovato, offre il lunedì notte lo Yab Smooth, storica serata hip hop con il resident DJ Master Freeze. Il mercoledì, Astro Yab, serata reggaeton. Il giovedì, O.I.S., una serata puramente house. Il venerdì e il sabato propongono serate house commerciale, venerdì chiamata unica e il sabato Be Yourself. Il prossimo locale è uno dei locali che per molto tempo è stato al numero uno della classifica dei club della Toscana. Sto parlando del Tenax. Il Tenax, da sempre tempio dell'house e della techno music, propone venerdì e sabato resident DJ del calibro di Alex Neri e Marco Faraone e ospiti internazionali da Little Louie Vega, Kevorkian, Ralph. E in chiusura, l'ultimo locale che vi propongo oggi per quanto riguarda la città di Firenze è lo Space Club. Il martedì offre la serata All Star, hip hop, urban, reggaeton. Il mercoledì Space Jam, musica commerciale EDM. Il venerdì un format di casa, tutto hip hop e reggaeton. E il sabato house commerciale EDM. E passo ora la parola al nostro Mauro Pagani che vi porterà in giro per il mondo. Per quanto riguarda i locali internazionali, oggi vi porto a Miami. Miami, una città con uno stile di vita frenetico che sicuramente ospita alcuni dei locali più importanti al mondo. Oggi abbiamo selezionato per voi quattro dei club più importanti di Miami durante l'anno 2022. Iniziamo con il Club Space. Lo Space è innegabilmente uno dei migliori club di Miami da circa 20 anni. E si estende su un enorme complesso di ben quattro sale. La musica è varia, potete ballare hip hop, EDM, techno, house. Tra i top DJ che si sono esibiti allo Space ci sono Solomon, Loco Dice, Martinez Brother, Jamie Jones e Dupfire. Ed altri nomi molto illustri, soprattutto durante la Miami Music Week. Il Club Space quindi è uno dei locali che non potete sicuramente non vedere almeno una volta nella vita. E dal Club Space andiamo al famosissimo Nicky Beach. Il Nicky Beach di South Beach è un luogo unico ed esclusivo. Meno famoso come Club, ma più noto per essere uno dei ristoranti più premiati e per la sua famosissima spiaggia che è stata definita il luogo più sexy del mondo. Al Nicky Beach vi capiterà spesso di incontrare i VIP che frequentano questo elegante locale notturno. Il codice di abbigliamento qui è casual, ma i costumi da bagno sono l'opzione preferita. Il Nicky Beach è aperto dal giovedì alla domenica e propone musica house ed elettronica con famosi DJ internazionali. E dalla spiaggia più importante di Miami ci spostiamo al terzo locale tra i più importanti di questa famosissima città. Sto parlando del Tree House. Il Tree House, letteralmente casa sull'albero, è un locale psichedelico che si guadagna facilmente un posto nella lista dei migliori club di Miami non soltanto perché si trova nelle vicinanze di Miami Beach. A differenza dell'arredamento, che al Tree House è veramente molto semplice, la musica in questo locale è selezionatissima con un ottimo mix di house e techno. Ed in chiusura vi parlo di uno dei locali sicuramente più particolari di Miami, l'Eleven Haven. L'Eleven Haven è uno tra i pochi club aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Tuttavia, questo non è l'unico motivo per cui questo club attira una folla infinita. L'Eleven Haven vanta un'ospitalità a 5 stelle, un lussuoso ristorante privato e potete anche ammirare l'alba sul tetto più bella di Miami. Inoltre, L'Eleven Haven è famoso anche per essere il più importante strip club della città. I più grandi nomi dell'R&B, del pop e dell'Hipop suonano spesso in questo nightclub. Tuttavia, la playlist generalmente è EDM. Ed è tutto anche per questa puntata ennesima del Fashion Music Club TG, dove vi abbiamo fatto scoprire le serate più interessanti dei migliori club in Italia e dall'estero. E prima di salutarvi ringraziamo il nuovo arrivato, nuovo partner di Fashion Music Club Television, il cui clubbing di Rovato. Che tra poco ospiterà due dei nostri format in esclusiva, che sono I Love Formentera e Passione 90. Noi ci rivediamo alla prossima. Yes! E adesso ragazzi vi facciamo vedere uno speciale che abbiamo registrato la notte di Capodanno, un Capodanno importantissimo grazie al nostro amico Sergio Mattina ed eravamo con la serata Sensation in Sicilia. Dopo ben due anni di stop forzato, finalmente quest'anno si è potuto festeggiare il Capodanno 2023. E così Tendenzia, lo staff organizzativo storico della Nightlife isolana e nazionale non poteva che organizzare un super party dal carattere decisamente cosmopolita e dal grande impatto emotivo e sensoriale. Grazie alla sinergia, con la bellissima e prestigiosa e nota struttura di Villa dei Paladini a Sciacca, la città delle Terme di Agrigento, è andato in scena Sensation 2023, il Capodanno olivudiale. Un party che è stato un vero e proprio successo e che ha visto la presenza di migliaia di clubbers arrivati da ogni parte dell'isola e non solo. Tendenzia ha per l'occasione festeggiato anche i suoi primi 30 anni di attività, caratterizzati da grandi eventi ed importanti successi, che hanno segnato più di 5 generazioni di clubbers e lo ha fatto alla grande, anzi, alla grandissima, organizzando un party sviluppato su due dance floor e 5 aree privé. Per la notte più lunga dell'anno, l'organizzazione ha scelto in Main Room, direttamente dalla Outlaw Label Meneghina di Binaffia, il remixer ufficiale di giovanotti Adam Wolf. Per la House Room non poteva mancare Sergio Mattina, cuore pulsante di tendenza e DJ producer di fama internazionale. Per ultimare lo staff artistico a supporto dei due special guest per Sensational 2023, nelle due dance floor si sono esibiti anche Alex Infantino, Claudio Lipari, Giuseppe Bono, Luca Marchetta, Maurizio Lino, Pasquale Musso, accompagnati dalla voce di Franchino Il Cubanito. Nei suoi 30 anni di attività, Tendenzia ha potuto collaborare con nomi e brand veramente importanti a livello mondiale. E per quanto riguarda i club internazionali, il Gryphon Club di Miami, Nicky Beach, Cleveland Under di Miami, Head Candy Lounge, l'Unique Club di Bratislava, Club Class di Newcastle e tanti, tantissimi altri. Ciao ragazzi, leggeri in il nostro tempo! Questo è il campionato della Sicilia, e seguiamo 30 anni di tendenzia a dire ai paladini per l'Italia di Senza Sciacca. Ciao a tutti, Fashion Music Club! Ciao! Ciao, sono Dario Micolani di Radio 105, questa è Fashion Music Club Television. Oggi dobbiamo correre perché il tempo stringe, grazie per aver seguito un'altra puntata del prive più esclusivo d'Italia, ovvero Fashion Music Club Television. Ciao a tutti da Pagani, grazie a voi che ci seguite in tantissimi. Ci rivediamo qui al prossimo appuntamento, naturalmente su GoTV, canale 229 di Skype, per Fashion Music Club Television. Fashion Music Club Television, sponsor by Rigatoni Formentera. Yes, your everyday superhero. Quick Landing, Eddy Cars, Torino.